Siamo con il sindaco di Chieti Umberto Di Premio che dà delle buone notizie ai suoi concittadini perché partiranno a breve dei lavori di riqualificazione per zone molto importanti della città, lavori finanziati. Sì, partono finalmente i lavori di riqualificateate, che è un progetto che noi abbiamo lavorato in tutti questi anni e che finalmente arriva a compimento. La Cassa Depositi e Prestiti ci ha autorizzato una spesa di 10 milioni e mezzo che serviranno per rifare totalmente Piazza San Giustino, il cui appalto è in corso di svolgimento. Serviranno per raddoppiare il parcheggio di Via Gran Sasso, consentendo così al centro storico di avere finalmente posti auto a sufficienza rispetto alla domanda. Serviranno soprattutto per realizzare una nuova scala mobile. La scala mobile verrà smantellata e ne verrà realizzata una nuova che avrà una maggiore capacità di portata, ma soprattutto avrà un funzionamento migliore di quella che ormai è arrivata a fine corsa. In più ci sono soldi che serviranno per realizzare un parcheggio in Via Ferri, dove c'è la cittadella, la pubblica amministrazione e la realizzazione di un parco tematico. In più stanno partendo, sono già iniziati alcuni dei lavori che riguardano la parte bassa della città, dove verrà realizzata una pista ciclopedonale che da Santa Filomena arriverà fino a San Martino, consentendo a tutti i ragazzi che vogliono andare in sicurezza a scuola con le bici di potervi arrivare. Stanno partendo anche tutti i lavori che ci dicono essere la nostra una delle dieci città, questo è stato detto a Decomondo, una delle dieci città con la maggiore capacità di progettazione ambientale, cioè quelli relativi ai searching hub, cioè alle centrali di ricarica per mezzi elettrici, sia per biciclette con periodo assistita che per autovetture. Quindi una città che diventa sempre più green e allo stesso tempo infrastrutture che consentono alla città di guardare al futuro.